Il 30 giugno 1971, la navicella Soyuz 11 rientrò nell'atmosfera terrestre dopo quasi un mese, nello spazio. A bordo c'erano tre uomini che erano stati visti sugli schermi televisivi in tutta l'Unione Sovietica e nel mondo, quasi costantemente nelle ultime settimane. Erano già considerati eroi, cosmonauti coraggiosi che avevano affrontato una missione rischiosa e difficile e che avevano trascorso più tempo nello spazio di qualsiasi altro essere umano prima di loro. Il popolo dell'Unione Sovietica era ansioso di accoglierli nuovamente sulla terra, ma quando la loro capsula atterrò e la squadra di recupero bussò alla porta, non ricevette alcuna risposta. Qualcosa era andato terribilmente storto. La corsa allo spazio è il nome dato alla feroce competizione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica a metà del XX secolo, per vedere quale nazione sarebbe stata la prima a conquistare lo spazio. Questa intensa rivalità tecnologica è a volte considerata un surrogato del conflitto armato tra le due potenze. Dal momento in cui l'Unione Sovietica lanciò il suo primo satellite, lo Sputnik, nello spazio nel 1957, la battaglia per la supremazia tecnologica si sarebbe giocata su una nuova frontiera ad alta quota sopra la Terra. Tentativi continui di superarsi l'un l'altro avrebbero stimolato scoperte scientifiche e trasformato in eroi gli astronauti negli Stati Uniti e i cosmonauti nell'Unione Sovietica. Ma essere un astronauta o un cosmonauta in quel periodo di rapido e urgente progresso era talvolta estremamente rischioso. I sovietici presero un vantaggio iniziale nella corsa, seguendo il lancio riuscito dello Sputnik con l'invio del primo essere umano nello spazio, Yuri Gagarin, nella missione Vostok 1 del 1961. Mentre le due parti gareggiavano per ottenere il primato durante il decennio successivo, entrambe subirono tragedie fatali. Nel 1967 l'equipaggio di tre persone dell'Apollo 1 americano morì in un incendio. Nello stesso anno il cosmonauta Vladimir Komarov perse la vita quando il Soyuz 1 sovietico si schiantò al suolo dopo il rientro a causa di un paracadute difettoso. Nonostante questi disastri, entrambi i paesi continuarono a sviluppare i loro programmi spaziali a un ritmo incalzante. L'anno successivo, nel 1968, vide la missione Apollo 7 svolgere una prova impeccabile del modulo di comando e servizio Apollo. Questo grande successo fu seguito da uno ancora più importante l'anno seguente, quando con la missione Apollo 11 gli Stati Uniti divennero la prima nazione a mettere piede sulla Luna. La risposta sovietica nel 1971 fu il lancio della prima stazione spaziale, Soyuz 1. Il programma Soyuz andò molto bene. Infatti, l'ultimo modulo, lanciato come parte di esso, rimane tuttora in orbita, come parte integrante della Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, come in ogni programma di volo spaziale, anche questo non era esente da problemi e battute d'arresto. Il primo di questi problemi si verificò subito dopo il lancio iniziale, mentre le squadre a terra stavano ancora celebrando il successo di Salyut 1. Si scoprì che il coperchio del telescopio di Salyut 1 non si era staccato correttamente, riducendo drasticamente il campo di lavoro che poteva essere svolto a bordo della nuova stazione spaziale. Furono rapidamente ideati nuovi obiettivi alternativi. Pochi giorni dopo, il Soyuz 10 fu lanciato con l'intento che l'equipaggio di tre uomini si sarebbe agganciato a Salyut 1 e vi sarebbe rimasto per un mese. Tuttavia, la missione fu abortita quando il Soyuz 10 non riuscì a completare l'aggancio con la Stazione Spaziale. L'equipaggio tornò sulla Terra senza successo nella missione. I piani per il lancio del Soyuz 11 erano già in corso. Inizialmente l'equipaggio di riserva della missione Soyuz 10 avrebbe dovuto volare, ma quattro giorni prima del lancio, uno dei membri, Valery Kubasov, si sentì male. Una radiografia rivelò un leggero gonfiore al polmone destro. I medici temevano che fosse un segno di tubercolosi e, secondo le regole del Ministero della Salute, l'intero equipaggio fu costretto a rinunciare. Si scoprì che il gonfiore era causato solo da una reazione allergica e non da tubercolosi. Questa sfortunata diagnosi errata avrebbe inconsapevolmente salvato la vita a tre membri dell'equipaggio e condannato i loro sostituti. L'equipaggio di sostituzione del Soyuz 11 era composto da Georgi Dobrovolski, Vladislav Volkov e Viktor Patsayev. Furono lanciati il 6 giugno 1971 da una struttura in Kazakistan sovietico. La loro navicella era per necessità molto piccola e, di conseguenza, l'equipaggio non aveva spazio per indossare le tute pressurizzate mentre si trovava nella capsula. Il giorno successivo, il 7 giugno, si agganciarono con successo a Salyut 1. L'equipaggio rimase a bordo della stazione spaziale per i successivi 22 giorni, il periodo più lungo mai trascorso nello spazio da esseri umani. Trascorsero il loro tempo conducendo esperimenti e utilizzando telescopi a raggi gamma per raccogliere dati. Patsayev divenne la prima persona a utilizzare un tale telescopio nello spazio. Studiarono le condizioni meteorologiche sulla Terra, coltivarono piante come cavolo cinese e cipolle, sperimentarono con girini, alghe e mosche e condussero test cardiovascolari su loro stessi. Molti di questi esperimenti erano pionieristici e vennero condotti in modo molto pubblico. Per la prima volta il pubblico veniva aggiornato costantemente sui progressi di una missione spaziale, con l'equipaggio che appariva persino in una trasmissione televisiva mentre orbitava intorno alla Terra. Ovviamente non tutto andò liscio. I turni estenuanti e monotoni, progettati per massimizzare il tempo a bordo, con un membro dell'equipaggio sempre sveglio, causarono tensioni. I tre uomini ebbero solo pochi giorni per adattarsi all'idea che sarebbero stati loro a compiere la missione. Solo uno di loro, Volkov, aveva già esperienza di volo spaziale. Ora stavano trascorrendo più tempo nello spazio di quanto chiunque altro avesse mai fatto. I medici della missione erano, comprensibilmente, preoccupati per la loro salute mentale. Queste preoccupazioni si intensificarono il 16 giugno, quando l'equipaggio sentì odore di fumo. Tracciarono l'odore fino a un piccolo incendio elettrico, che fu spento grazie alle indicazioni di Alexei Yeliseyev, un veterano cosmonauta che aveva volato in precedenti missioni Soyuz e che stava fungendo da comunicatore dell'equipaggio da terra. I tre cosmonauti trascorsero la notte a bordo della Soyuz 11, mentre l'aria nella stazione veniva purificata. Una potenziale crisi fu evitata, ma l'incidente lasciò l'equipaggio nervoso. Chiesero se potessero tornare sulla terra in anticipo, ma il controllo a terra insistette che erano al sicuro. Le trasmissioni televisive quotidiane delle loro attività continuarono per tutto il tempo che rimasero a bordo di Salyut 1. Gli uomini divennero nomi noti in tutte le case. Naturalmente notizie di tensioni o problemi non vennero mai incluse nelle trasmissioni. Invece, la copertura si concentrava sugli aspetti positivi. Ad esempio, il 19 giugno, Patsaiev festeggiò il suo trentottesimo compleanno, diventando la prima persona a celebrare un compleanno nello spazio. Pochi giorni dopo, l'equipaggio iniziò a prepararsi per il ritorno sulla terra. Entro il 29 giugno, avevano imballato il loro carico di filmati e campioni scientifici, pronti per tornare a casa. La Soyuz si staccò con successo da Salyut 1 e orbitò intorno alla terra tre volte, prima di tentare il rientro. Il compartimento di lavoro e il modulo di servizio furono entrambi sganciati come previsto, lasciando l'equipaggio all'interno del modulo di discesa. A quel punto, tutte le comunicazioni con la Soyuz furono interrotte. Questo era preoccupante, ma non catastrofico. Il rientro era principalmente un processo automatico. Infatti, quando il modulo si avvicinò alla superficie terrestre, il paracadute si aprì automaticamente e l'atterraggio sembrava essere avvenuto con successo. Il team di recupero arrivò sul luogo dell'atterraggio entro dieci minuti e notò che la capsula appariva completamente intatta. Tuttavia, quando bussarono alla capsula, non ricevettero alcuna risposta. Quando fu aperta, trovarono i corpi senza vita dei tre membri dell'equipaggio. Vennero fatti tentativi di rianimarli, ma senza successo. La situazione fu riportata al controllo missione, usando un sistema di numerazione da 1 a 5. 5 indicava che un membro dell'equipaggio era in ottima salute, mentre 1 indicava l'opposto. Quel giorno il rapporto fu 1-1-1. La causa della morte dei cosmonauti non fu resa pubblica per quasi due anni. La missione aveva catturato l'immaginazione del pubblico e il governo sovietico era desideroso di sottolineare i numerosi successi della ricerca piuttosto che la tragica perdita dell'equipaggio. Negli Stati Uniti il disastro suscitò timori sul fatto che il corpo umano non fosse in grado di sopportare una permanenza così lunga nello spazio. Alla fine però la causa della morte divenne chiara. Lo sgancio dei moduli durante la discesa aveva provocato l'apertura di una valvola difettosa. L'aria era fuoriuscita rapidamente e l'equipaggio, incapace di indossare le tute pressurizzate a causa dello spazio limitato nella capsula, morì per asfissia. Il corpo di Patsayev fu trovato vicino alla valvola, portando gli investigatori a credere che fosse sopravvissuto abbastanza a lungo da identificare il problema, ma non abbastanza da risolverlo. Alexei Leonov, che era stato il comandante originario della missione Soyuz 11 prima del cambio di equipaggio, aveva raccomandato che queste valvole fossero chiuse manualmente, poiché non si fidava del sistema automatico. Purtroppo sembrava che l'equipaggio di sostituzione non avesse seguito questo consiglio. Leonov sperimentò la chiusura manuale delle valvole e scoprì che gli ci voleva quasi un minuto, troppo tempo per l'equipaggio del Soyuz 11, che avrebbe avuto solo pochi secondi per reagire all'emergenza. Ci fu un'ondata di dolore per la morte dei tre cosmonauti. Ognuno di loro fu postumamente insignito della medaglia di eroe dell'Unione Sovietica e i loro corpi vennero esposti a Mosca prima di essere sepolti con funerali di Stato. Leonid Brezhnev fu visto asciugarsi le lacrime mentre passava accanto alle loro bare, una scena considerata insolita per i leader sovietici. Un mese dopo il disastro, gli astronauti dell'Apollo 15 posero una targa commemorativa vicino al loro sito di atterraggio sulla Luna. Nel 1973 fu eretto un monumento sovietico nel luogo in cui la capsula era atterrata. Questo venne sostituito da un nuovo memoriale nel 2016. Crateri sulla Luna furono intitolati a ciascuno dei tre uomini. In aggiunta a questi omaggi, molte lezioni furono apprese dal disastro. Tutte le future Soyuz vennero costruite con valvole più robuste, dotate di chiusure rapide in caso di perdita d'aria. Da allora, gli equipaggi indossano regolarmente tute pressurizzate durante i lanci e gli atterraggi. Ogni missione spaziale successiva al Soyuz 11 è stata resa più sicura grazie alle conoscenze acquisite a seguito di questa tragedia. Grazie a questi progressi, i tre cosmonauti persi durante il ritorno del Soyuz 11 rimangono le uniche tre persone a essere morte al di fuori dell'atmosfera terrestre.